Il punto fisso che la ragione umana da sola non sa trovare lo fornisce la rivelazione, lo fornisce la rivelazione che però non va intesa per Pascal come una opzione irrazionalistica e questo è il punto celebre indicato da quell'altro pensiero in cui dice il cuore ha le sue ragioni che la ragione non intende. È una frase su cui soffermarsi è da leggere attentamente perché non è la contrapposizione del cuore o dei sentimenti alle ragioni, il cuore ha le sue ragioni che la ragione non intende. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una ragione che pretendendo di occupare tutto lo spazio della validità allora esclude il cuore, non intende le ragioni del cuore e lo considera irrazionale. Ma in realtà il cuore ha le sue proprie ragioni quindi c'è una concezione più ampia che include le ragioni della ragione e le ragioni del cuore. Questa prospettiva più ampia è quella che Pascal difende quindi non si tratta di una contrapposizione del sentimento irrazionale alla ragione, si tratta di un allargamento dell'idea stessa di ragione. Ossia detto altrimenti l'allargamento di quelle che sono delle evidenze a cui è possibile fare riferimento e su cui è possibile appoggiarsi. Vi sono delle evidenze del cuore che appunto non sono semplicemente il sentimento ma sono una capacità di cogliere qualche cosa che il puro ragionamento geometrico non sa cogliere. Ora talvolta lui parla di questa capacità anche in riferimento ai principi della logica che non si possono dimostrare e bisogna cogliere intuitivamente. Però non credo che si debba costruire la nozione di che cos'è la conoscenza del cuore solo sulla comprensione dei primi principi della logica. Perché poi lui vuole includere tra le evidenze del cuore, tra ciò che il cuore permette di comprendere anche qualcosa che non ha il carattere dei principi della logica. Come appunto possono essere le verità della fede che dunque sono comprese in un modo che si presenta con le modalità della comprensione non del gesto arbitrario, della decisione arbitraria di adottarle ma non come dei principi della logica. Sono delle verità che sono delle verità vissute e esperite nel concreto delle pratiche. Ritorneremo su questo. Il punto fondamentale è che questo cuore fornisce le verità che questo cuore sa cogliere, forniscono una risposta a quella domanda di punto fisso che la situazione storica, oltre che il ragionamento, non rivelano mancare. Ok, ecco, quindi la situazione.